Buonasera a tutti, in questi giorni ho recuperato un articolo a firma di Lino Buscemi sul giornale Sicilia mi sembra, in cui si parla della semplificazione del linguaggio soprattutto politico e amministrativo. Per la verità Lino Buscemi è molto perplesso, è demotivato da questo punto di vista perché anche se sono intervenuti diversi provvedimenti il linguaggio politico e amministrativo rimane sempre complesso e quindi è molto distante dai cittadini e quindi non invoglia la partecipazione dei cittadini soprattutto alla vita pubblica. Lui parla in particolare anche di un termine che ci darà la possibilità poi di sviluppare tutto il nostro discorso dal termine di eccellenza che viene usato ed abusato in molti ambienti, nei tribunali, nelle prefetture e anche presso la curia. Io mi sono soffermato su questo sostantivo eccellenza perché ho molto riflettuto su una considerazione di ordine generale. La considerazione di ordine generale è che da almeno 30 anni in questo Paese si tenta di modernizzare la pubblica amministrazione, si tenta di modernizzare la politica eccetera, ma noto che sono battaglie perse. Mi rendo conto che lasciare tutto com'è serve al potere per fare il bello e il cattivo tempo. Perché quando non si vuole riformare, quando non si comprende che bisogna avvicinare le istituzioni al cittadino, bisogna dedurre che non c'è la volontà di creare quello che prevede la Costituzione, un rapporto diretto e lineare con i cittadini per assicurare il ruolo, la partecipazione democratica e soprattutto la conoscenza dei fatti politici e amministrativi che ogni giorno agitano e vengono prodotti nel nostro Paese. La necessità di semplificare il linguaggio corrisponde alla esigenza di rendere più fluidi i rapporti tra cittadini e istituzioni. Se il potere si nasconde dietro, diciamo, frasi enigmatici... Abbiamo adoperato spesso la parola burocratese. Esatto, il cosiddetto burocratese e io aggiungo il cosiddetto politichese. Tutte e due cose camminano assieme. Se il linguaggio politico, il linguaggio amministrativo, legislativo è un linguaggio difficilmente accessibile, se si usano termini desueti, addirittura che risalgono anche al Settecento e ancora prima, se si usano frasi che rendono tutto di difficile comprensione, è evidente la volontà di non aprire, diciamo, le istituzioni ai cittadini. Allora, più volte mi sono chiesto perché non si riesce a determinare un'inversione di tendenza. E' da trent'anni, dopo la legge sulla cosiddetta trasparenza amministrativa, che vari ministri della funzione pubblica, a cominciare da Cassese, hanno pensato che insieme alla semplificazione delle procedure, dei meccanismi burocratici, eccetera, fosse anche necessario elaborare una strategia per semplificare il linguaggio legislativo e il linguaggio amministrativo. Perché se il linguaggio amministrativo è quello che è, lo dobbiamo pure a un linguaggio legislativo, le leggi sono scritte talvolta male, vengono scritte con periodi lunghi, vengono usati aggettivi non propriamente volti a far comprendere al cittadino la sostanza delle cose, quindi il linguaggio legislativo, che poi diventa per l'amministrazione quasi un obbligo, si trasfonde per una sorta di meccanismo così automatico e nel linguaggio e nell'agire della pubblica amministrazione di ogni giorno, statale, regionale, comunale, a tutti i livelli. E sono state fatte in trent'anni tentativi. Sì, intanto diciamo che stiamo disattestando le direttive che esistono. Ma addirittura una non è nemmeno una direttiva, perché il ministro Cassese ha voluto elaborare il cosiddetto codice di stile con l'intendo di fornire alla pubblica amministrazione una guida pratica sui vocaboli che bisogna usare, ad esempio, con una per tutte, obliterare, chi lo capisce? Obliterare. Bollare, timbrare, mi sembra più accessibile. Eppure queste indicazioni sono state del tutto disattese, ancora vengono notificate dagli uffici provvedimenti dove si usano veramente delle parole incomprensibili. Però dico tu nel tuo articolo parti da lontano, addirittura parti dal decreto legislativo 406 del 28 giugno 45. Ci sto arrivando, ci sto arrivando, perché volevo concludere questo discorso delle direttive. Poi dopo Cassese nel 2002 c'è stata addirittura una direttiva della funzione pubblica intesa a modernizzare veramente il linguaggio, dopodiché il silenzio. Allora mi è venuta in mente proprio questo ragionamento, cioè da dove si parte, perché si possa dire una volta e per tutte che i tentativi di semplificazione ci sono stati e spesso hanno avuto anche una incidenza clamorosa. E mi sono soffermato sulla semplificazione, sulla persistenza nel nostro ordinamento di un titolo onorifico come eccellenza che viene indirizzato nei confronti delle alte cariche dello Stato, ministri, presidenti, sottosegretari, alti gradi delle forze armate, penso ad altri funzionari. E vedo che siamo ancora fermi a quello che possiamo riscontrare leggendo i romanzi di Camilleri ambientati nell'Ottocento o nella prima metà del Novecento, dove si nota un linguaggio di deferenza e di sottomissione verso il potere che è veramente indegno di una repubblica che si fonda su una Costituzione tra le più liberali del mondo e soprattutto per la sua natura democratica. Nello scritto e nel parlato. Esatto. E allora mi sono accorto che questo sostantivo eccellenza resiste all'usura del tempo. Oggi un caffè o un titolo di eccellenza non si nega a nessuno. Perché non si nega a nessuno? Perché questo titolo ha una funzione autoritativa, perché rivolgersi a un prefetto, rivolgersi a un sottosegretario o un ministro con l'appellativo di eccellenza. A parte che per il cittadino e perché lo rivolge è un atto di sottomissione. Ma soprattutto chi lo riceve quasi quasi lo pretende perché i megalomani purtroppo sono sempre esistiti e c'è gente che vive di questi orpelli, non capendo che la permanenza di questi orpelli determina una stagnazione nei rapporti cittadino-stato, cittadino-regione, cittadino-comune che non possiamo più accettare. E allora vogliamo cominciare da questo sostantivo e io ti devo dire che storicamente ho trovato punti di riferimento. Tu poc'anzi accennavi al primo provvedimento che è stato adottato per liberare il popolo italiano di questi atti di deferenza con questi titoli. Anche se tu poi ti mostri che ce n'è uno ancora. Ce n'è ancora. No, sto parlando proprio del primo che risalda al 13 giugno… No, mi riferisco poi a Garibaldi. Ah, 13 giugno del 1860. Garibaldi a Palermo in nome di Vittorio Emanuele emana un decreto che è stato sottoscritto dall'allora segretario di Stato di Garibaldi che poi diventerà presidente del consiglio il palermetano Francesco Crispi e addirittura Garibaldi nell'emanare il provvedimento va oltre l'abolizione del titolo di eccellenza. Dice che dobbiamo pure abolire il baciamano tra uomo e uomo perché questo è segno di un antico servaggio. Cioè a dire restituire al cittadino quella dignità che gli è stata benché concessa da Costituzione. E sono sempre state negate nella prassi. Il metodo seguito non è quello contenuto nelle carte costituzionali. Il metodo che si segue è un metodo di sempre. Tu devi avere il cittadino nei confronti della pubblica degli esponenti del governo, della pubblica amministrazione, degli uffici in generale un atto di deferenza e non c'è verso a fare cambiare questa mentalità. Per un periodo che va dal 60 fino alla prima guerra mondiale, formalmente il titolo era stato abolito ma si continuava a pronunciarlo. Il fascismo è stato più chiaro. Nel 1927 viene approvato non con una legge, un reggio decreto e ha rientrodotto un reggio decreto che risale al 16 dicembre del 1927. Il fascismo ha reintrodotto il titolo di eccellenza per gli altri grati dello Stato, ecc. A cominciare da Mussolini. E appena con la liberazione del nostro paese e quindi con la formazione del governo Parri, viene il vicepresidente del Consiglio di allora che era Pietro Nenni, stiamo parlando quindi un anno prima della programmazione della Repubblica, quindi nel 45, e stiamo parlando di tre anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Pietro Nenni, indignato dalla persistenza di questo titolo, la gente gli si rivolgeva a lui socialista col titolo di eccellenza, Pietro Nenni chiese al suo capo di gabinetto di preparare subito un disegno di legge da portare all'approvazione del Consiglio dei Ministri per l'abolizione del titolo di eccellenza. E devo dire che fu quasi una cosa comica perché il capo di gabinetto predispose il decreto, lo portò alla firma del ministro e nella carpetta c'era scritto come titolo alla firma del ministro vicepresidente del Consiglio. Nenni si mi sa ridere perché dice è dura veramente questa battaglia. Però quel decreto fu approvato e ha abolito il decreto fascista e nello stesso tempo questo decreto che non porta la firma di un Presidente della Repubblica perché siamo nel 45, governo parre significa che c'è ancora un Savoia al Quirinale, sebbene con funzione di reggente luogo tenenziale e il 28 giugno del 45 viene fermato da Umberto II di Savoia questo decreto che abolisce nuovamente il titolo di eccellenza e poi questo decreto viene controfermato da Parri e viene fermato dal guardasigilli che si chiamava il ministro della giustizia e allora si chiamava Togliatti. Questo decreto viene registrato però non viene convertito. Non poteva essere convertito perché le Camere non c'erano. In ogni caso si tratta di un decreto legislativo non di un decreto legge ma in ogni caso nessuno ha mai dopo adottato provvedimenti che tutta la legislazione prodotta con decreti legislativi dai governi dopo la caduta del fascismo alcuni provvedimenti sono stati espressamente aboliti ma altri sono stati lasciati come questo. Quindi il titolo è stato abolito a tutti gli effetti e quindi non fa certamente parte del nostro ordinamento. Perché penso che bisogna partire da queste cose perché queste cose sembrano discorsi di lana e caprina invece poi sono sostanze. Tu parli anche di una circolata del 1958 che è la presidenza del Consiglio dei Ministri. Che è ancora un rafforzativo di questo è un rafforzativo di questo è una circolata è un rafforzativo di questo decreto legislativo per cui la Repubblica Italiana non ha mai ritenuto di dovere smentire quel decreto che è stato approvato prima della Costituzione italiana quindi questo significa che la Costituzione ha operato una scelta ben precisa la continuità ma la Costituzione si occupa pure dei titoli nobiliari e titoli nobiliari la Costituzione Repubblicana li ha aboliti tutti. Dunque bisogna cominciare. Dico ma in Vaticano la cura può mantenere questi titoli. Noi stiamo parlando dello Stato. Dico una curiosità. Ovviamente l'ordinamento della Chiesa risponde al diritto canonico perché i vescovi vengono chiamati eccellenze reverendissime, i cardinali vengono appellati eminenza eccetera quindi il Papa viene appellato sulla santetà ma questo è stiamo parlando di un altro ordinamento stiamo parlando di un altro non è la Chiesa non è lo Stato italiano separiamo le due cose e non mi senterei di dover interferire nelle scelte. La Chiesa dovrebbe fare anche una riflessione su quanto stiamo dicendo. Certo io ad esempio noto perché proprio la Chiesa si dovrebbe avvicinare maggiormente ai fedeli. Sì questi titoli queste cose dovrebbero costituire diciamo una ventata di rinnovamento perché dopo il concilio vaticano secondo voluto da Giovanni ventitresimo io credo che però io conosco molti vescovi, il nostro vescovo l'arcivescovo di Palermo gradisce farsi chiamare Don Corrado quindi figurati ci sono ci sono vescovi e vescovi ci sono cardinale e cardinale certo ci sono i cardinali tradizionalisti che non ci che non ci rinuncerebbero nemmeno nemmeno sotto tortura ma questo è un altro discorso non solo al titolo ma io vedo anche nella prasse burocratica di ogni giorno perché una cosa è chiamare una pubblica manifestazione il prefetto eccellenza ed è sbagliato e il signor prefetto è stata emanata recentemente una circolare per dire che quando si ci si rivolge alle più alte cariche dello Stato in sede nazionale o in sede locale della Repubblica ad esempio ci è portato l'esempio scritto al Presidente della Repubblica quando si iscrive al Presidente della Repubblica basta scrivere al signor Presidente della Repubblica quando si scrive al Capo del Governo si scrive al signor Presidente del Consiglio quando si iscrive al Ministro si scrive al signor Ministro e così al signor Sindaco a così al signor Prefetto a tutti quanti e accende rascende ma questa trassi è dura a morire, ancora si usa nella formulazione delle domande la terza persona, c'è una deferenza, si concludono le missive con la scritta con osservanza, si usano ancora aggettivi e sostantivi che veramente non fanno più parte nemmeno della lingua italiana corrente, la più aulica, quindi allora bisogna invertire la rotta, ad esempio io non riesco a capire come nell'amministrazione della giustizia ci siano avvocati che ancora nell'avanzare atti scritti, ricorsi in Cassazione, nei tribunali amministrativi regionali, nelle corte d'appello, nei tribunali, si parla sempre di eccellentissimo tribunale, eccellentissima corte, eccellentissimo signor Presidente, anche dentro le aule di giustizia c'è chi sciorina a mo' forse di accattivarsi il Presidente di turno questi titoli gratuitamente, bisogna capire che si comincia dalle piccole cose, noi dobbiamo modernizzare l'apparato dello Stato, lo Stato si deve modernizzare anche in queste cose, perché la modernità comincia da queste cose, non ha senso parlare di organizzazione fondata su una informatica evoluta, già si parla di intelligenza artificiale eccetera, quando continuiamo nei rapporti verbali, nei rapporti scritti, nei rapporti sociali ad usare frasi antiquate, ad usare appellativi che ormai fanno ridere e soprattutto tutto questo denota un servilismo e un modo di confrontarsi con le autorità che non vengono considerate al servizio del cittadino, ma vengono considerate come strutture dominanti e questo non è concepibile, la Costituzione non lo prevede, la democrazia si fonda su un concetto di esercizio del potere che deve avere una sua legittimazione democratica e questa legittimazione deve essere sostanziata da un rapporto vero, da un rapporto sincero e da un rapporto civile e democratico con il cittadino. Se noi ancora siamo fermi all'eccellenza, al reverendissimo eccetera, allora il problema è che questo paese non vuole liberarsi di certi lacci e laccioli. Con ciò non è che noi vogliamo cancellare il nome eccellenza, perché può essere utilizzato questo termine nel campo dell'istruzione, delle aziende, quando si raggiungono delle eccellenze. Quando si raggiungono delle eccellenze, usato in questo senso ha un significato diametralmente ma volutamente io sottolino questo fatto. Esatto, se lo usiamo nei confronti di personaggi di primo piano, delle istituzioni, ma quello è un atto di servilismo inutile, un atto di deferenza che non ha niente a che fare con l'educazione, perché io non penso di qualificare diversamente una persona che si rivolge al capo dello Stato e ai ministri chiamandolo signor Presidente o signor Ministro. In qualsiasi paese civile, il Presidente degli Stati Uniti della Francia eccetera, vengono tutti apostrofati in maniera corretta. Signor Presidente, anche gli ambasciatori sono quelli più resti a rinunciare a questo titolo di eccellenza. Bisogna che se ne facciano pure loro una ragione. Non possono esserci dei compartimenti stagno. Ne faccio un motivo di discussione, di attenzione, perché partendo da queste cose particolari arriviamo al generale e la situazione generale è che questo paese non riesce a liberarsi di tanti lacci e lacciuoli e non riesce soprattutto ad armonizzarsi con lo spirito della Costituzione, benché siano state ammalate provvedimenti normative e direttive di tutti i tipi per rendere questo rapporto cittadino-istituzione più fluido e soprattutto più improntato a un criterio di collaborazione. Tu sei stato responsabile dell'ufficio di trasparenza della regione siciliana. Tutto questo contribuisce ad essere meno trasparente e tu hai condotto una battaglia in tal senso. Tu hai pubblicato pure qualcosa in passato su questo argomento. Io però ho avuto difficoltà a ritrovarlo. Bisogna considerare la pubblica amministrazione, ma anche tutte le istituzioni, devono essere case di vetro. Io quando sento dire ad alcuni ministri che amministrare il danaro pubblico significa amministrare il danaro del cittadino e allora è giusto che lo Stato, gli enti locali, le regioni rendano conto al cittadino di come spendono i quattrini, chi sono i destinatari delle provvidenze. Queste sono ormai, dovrebbero essere metodologie a cui invece da noi ancora queste cose sembrano l'eccezione. Non si vuole, o temo che ci sia questa tendenza ad accaparrarsi di quote di potere e qualcuno pensa che quando è al potere di poter fare il bello e il cattivo tempo. No! Questa è una regola che non si può, una regola deprecabile, che non si può accettare. Chi gestisce il potere lo deve fare il nome del popolo italiano e lo deve fare il nome della più plateale trasparenza. Un politico che agisce o un amministratore che agisce in funzione di precise disposizioni di legge e normative è obbligato ad operare secondo quanto è stato stabilito. E quando si opera bisogna operare al netto di ogni riserva mentale. Chi nasconde, chi non vuole rendere conto del proprio operato non può interpretare un ruolo che ha, perché la Costituzione e le leggi che sono state emanate in base alla Costituzione impongono che ci sia oggi, tra l'altro con tutti gli strumenti che ci troviamo di pubblicazione e di conoscenze eccetera, bisogna che si rendano conto che amministrare la cosa pubblica non è amministrare gli affari della sua famiglia. Senti, quando è entrato in vigore il codice di stile, poi c'è stata la direttiva dell'8 maggio del 2002, come è stata recepita dalla regione siciliana? Tu eri ancora in servizio. Qual è stato il sentimento degli addetti ai lavori? Ufficialmente, a parte che ad esempio la regione ha questa gabbia, avendo noi la cosiddetta autonomia speciale, siamo costretti, anche quando lo Stato fa delle leggi, a recepire. Il recepimento è una cosa che ritarda i processi di innovazione. Quando è stata approvata la legge 241 del 1990, noi abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo per recepirla in Sicilia. che significa? Quando lo Stato fa delle riforme, si applicano in tutto il territorio nazionale, perché creare questa isola del Dino? Oppure si recepiscono con un articolo. O si recepiscono con un articolo. Bisogna invece capire che l'autonomia speciale deve essere esercitata nelle materie che la regione dice di gestire in prima persona, ma con una preferenza. Se lo Stato legifera ed è più avanti della regione, io non capisco perché dobbiamo creare questa barriera, ritardare l'entrata in vigore. Noi siamo cittadini italiani, prima di essere siciliani, appartenendo alla nostra regione speciale. Quindi quando una legge dello Stato entra in vigore, entra in vigore per tutti. Se la regione, ecco la vera modifica che bisognerebbe fare, se la regione non vuole allinearsi a una legge dello Stato nelle materie che essa ha come competenza legislativa primaria, allora la regione deve agire immediatamente, facendo qualche cosa di meglio e di più rispetto a quello che fa lo Stato. Invece spesso ci troviamo nelle condizioni che vengono emanati provvedimenti innovativi, la regione ritarda a recepirli e questa crea una condizione di cittadini di serie A e di serie B, cittadini che abitano da Messina, dal Reggio Calabria in poi e noi. E questo non è più accettabile. Senti, siccome abbiamo un minuto ormai di spesso, vedo che hai ancora numerose appunti. l'ultima cosa che volevi dire però in un minuto. Il rapporto cittadini-istituzioni è importantissimo. La democrazia si fonda su un rapporto di sincerità, di rispetto e di collaborazione tra i cittadini e istituzioni. Se non si crea questo rapporto, noi abbiamo determinato, almeno da noi, una condizione arretrata rispetto a quello che avviene in tutti i paesi del mondo. Oggi ci deve essere, quando si parla di disaffezione del cittadino, quando si riscontrano percentuali elevate di astensione, cittadini che non vanno a votare, qualcuno si pone il problema del perché? Se c'è disaffezione vuol dire che il cittadino non si riconosce in certe metodologie, non si riconosce in certi meccanismi di gestione. Allora le leggi che la Repubblica ha prodotto sono leggi innovative. Bisogna fare uno sforzo per rendere tutto leggibile. Ti faccio un esempio in più. Se la legge impone che nei siti web dei comuni, nei portali comunali, regionali, dei ministeri, devono essere pubblicate tutte le notizie di pubblico interesse, per quanto riguarda le concessioni, gli appalti, la spesa in generale, perché il cittadino deve trovare difficoltà a trovare nei siti i dati e richieste. Tu qualche volta hai stigmatizzato anche la poca trasparenza in materia di affidamenti, di gare, di cose eccetera. Eh, ma bisogna evitare. Allora io parto dalla necessità di abolire una volta e per tutte questo titolo di eccellenza e mi rivolgo anche ai presentatori delle trasmissioni televisive quando vedono in sala, nelle loro manifestazioni esponenti del governo, prefetti eccetera, di evitare di rivolgersi a loro col titolo di eccellenza. Li chiamano nella maniera più democratica e più semplice. Signor Presidente, signor Prefetto, forse ci fanno più figura, ma veramente creiamo quella armonia che è necessaria. Si parte da queste cose se vogliamo affrontare le grandi questioni. Ci dobbiamo fermare, ti ringrazio, ringrazio e telespettatori, buona serata a tutti.